Il nuoto in acque libere dopo la pausa forzata imposta dal covid nel 2020 ritorna a gran voce nelle acque cristalline dell'area marina protetta di Santa Maria di Castellabate nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Circa 150 partecipanti di tutte le età si sfideranno a suon di bracciate domenica 4 luglio con partenza alle ore 10 lungo un tracciato di 2,4 chilometri realizzato nello specchio d'acqua antistante la spiaggia della frazione Lago incastonata tra il Monte Tresino e l'isolotto di Punta Licosa. La partenza e l'arrivo degli atleti sarà posizionato nel tratto di mare antistante il Lido La Pagliarella. La gara è promossa dal circolo nautico Punta Tresino e dall'ente nazionale democratico di azione sociale Endas. Sarà emozionante rivedere nel nostro mare nuotatori e nuotatrici per una gara dopo un anno di stop, affermano i soci del CN Punta Tresino. Ci siamo preparati per accogliere tutti i partecipanti in sicurezza e per garantire loro come sempre il massimo supporto a terra e soprattutto in mare. Con questa gara apriamo l'estate 2021 che sancirà un ritorno, seppur graduale, a buona parte delle nostre attività sportive e non solo. Tra gli appuntamenti estivi anche il torneo regionale di pallannuoto Juniores 14-15 luglio, la gara nazionale di waterbike 16-17 luglio e la gara internazionale di nuoto di 15 chilometri del Gran Fondo Italia.